Noi siamo intervenuti perché Miano è frazione del Comune di Teramo e perché c'è un problema di trasporto urbano. Il trasporto scolastico l'abbiamo risolto perché l'autobus passa già da qualche tempo per un'altra strada che era già autorizzata dal Comune come tragitto. Invece c'è il problema del trasporto urbano perché i lavori, secondo la provincia, non si potranno fare prima dell'estate, che dureranno qualche mese per cui non si può lasciare una frazione così importante isolata. Che si fa? Abbiamo studiato insieme al prefetto due percorsi alternativi, noi siamo disponibili a valutarli lunedì mattina nelle prime ore della giornata sopra al luogo con la Baltur e con la provincia per vedere questi due percorsi che sono o attraverso Villavomano e poi Sardinara o invece al Bibio di Miano prendere la provinciale per Sardinara che però è un po' più accidentata come strada, mi sono messa male. Quando c'è un'emergenza si sta tutti dalla stessa parte, non ci sono casacche politiche, destra o sinistra. C'è l'emergenza, tant'è che con Maurizio Verna la mattina abbiamo affrontato in maniera costruttiva la soluzione al problema.